Vittorio e Pietro Paolo, un'altra vittoria, la seconda di fila, quella che avete raggiunto contro il Montorio e fatto anche gol. Siete sulla strada giusta per far bene? Sì, siamo sulla strada giusta. Normalmente bisogna sempre continuare, sempre grandi prestazioni, soprattutto di gruppo, di squadra. Poi quando arriva il gol, normalmente sono ancora più felice. Però l'importante è che facciamo un buon risultato e che ci sia una prestazione di squadra. Sul campo alla fine avete perso solo la partita di esordio, togliendo il 3-0 a tavolino contro Lovidiana, quindi una torrese che sta facendo un ottimo avvio. La prossima partita contro il Pontevomano, una partita comunque tosta. Che cosa vi aspetta e come la state preparando? Sì, una partita tosta. La stiamo preparando bene, soprattutto mentalmente. Bisogna approcciare bene la partita. Sennò, come ha detto lei, la prima partita con il Capistrello, secondo me non abbiamo approcciato mentalmente la partita e il risultato non è arrivato. Qual è l'obiettivo della squadra per questa stagione? No, l'obiettivo è sicuramente fare un gran campionato. Un gran campionato tutto qua.